Ecco, qui proprio sotto la torre c'è il piccolo Efram che interpreterà la parte di Gesù Bambino. Il papà Vero si chiama? Daniele. Daniele, la mamma? Mamma. Ecco, quando avete saputo che vostro figlio veniva scelto? Che cosa avete sentito? Cosa avete provato? Eh, gioia. Felicità. Quanto c'ha Efram? Due mesi e mezzo. Due mesi e mezzo. Chi vi ha contattato per questa? Tramite la catechista della sorellina. Efram se lo porterà per sempre, è scolpito questo ricordo sicuramente. Lo possiamo vedere un attimino in anteprima? Sì, è un po' addormentato. Allora, lui è nato esattamente il? 6 ottobre. Giorno? 6 ottobre. 6 ottobre. Ed è proprio di Oristano, Oristano? Sì, è nato Oristano. Allora, con tanti auguri e che veramente sia felicissimo, ecco, di portare questo ricordo nella sua vita. Auguri anche a mamma e a papà. Grazie. Grazie.